Valentino Schiano, dove sta? Eccolo qua! Buonasera, buonasera! Buonasera, tutto a posto? Ciao Valentino! So che stasera hai portato una bella sorpresa, lui deve cantare un pezzo, in realtà non c'è un pezzo? Sì, che facesse per te il mio primo singolo, Salvatore Strada, Arranciamenti, Peppe Migliaccio. Ma stasera su questo pezzo ci sta una bella geografia, praticamente, posso dirlo, no? Sì, sì. La sua fidanzata, che mentre lui canta questa canzone vuole stare vicino, perché lui l'ha dedicato a... Veramente, di vero cuore a questa bella signorina, e praticamente che bello che un artista come Valentino Schiano ha veramente un cuore nobile, ha detto la posso dedicare, bello te l'hai diretta, come quella è la tua fidanzata, puoi fare quello che... Voglio anche annunciare... Come si chiama la tua fidanzata? Anna! Anna, complimenti che ti sei scelto un ottimo... Voglio anche annunciare, prossimamente ci sarà una bellissima canzone scritta per lei, fine gennaio, inizio febbraio, scritto dalla Gilego Music, Luigi Ciardiello, Salvatore Deliso e Nando Coccia. E poi la cambiamo su TV campana, in questo programma, vai! Mi dico qualcosa tu? Vai! Vai con il brano, vai, vai, vai! Valentino Schiano! Grazie mille! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti